Bella a tutti ragazzi, bene ancora? Mi sono ovvio, io sono bella che mi faccio spaventare Oggi giochiamo di nuovo alle percorso Noi aspettiamo ovvio 3000 ore, fin quando gli altri devono entrare E' brutto E' brutto Brutto Raga qui sotto nei commenti scrivete La squadra che ti fate Raga qui sotto Baby sonale non è un problema e non è un problema e non è un problema e non è un problema non è un problema vado poi ditemi se volete qualche gioco di minecraft tipo qualche vostra minecraft eppure 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 no eppure 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 dere eppure w eppure 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 Mettiamo questa torre E qui sta smettendo C'è mio fratello qua Saluta almeno Ah raga nei commenti scrivete se siete fidanzati o meno Vedete Un due Un Allora qua chiudiamo Così sicuro che nessuno Fa spaccare il letto Eh ma ti guarda C'è giusto Bocadè è buono Sì Bocadè è buono È bambino non ruotarlo con uno del telescettando giocamai in casa mmmm, i gianchini buoni buoni mi chiedono mi chiedono la cesta questa inferno e mi chiedono yes super e si non mi faccio più tendenza, per rendere l'Utube per vendere un computer fisica per il video perché tu vuoi fare l'Utube? io ho fatto io ho fatto io ho fatto il computer io ho fatto il computer io ho fatto il computer che cos'è questa cosa? poi dopo io voglio capire che cosa sarebbe ma ti lo sai che cosa è questa cosa? che cosa? uno che cosa serve? non è vero non è vero uno scudo non è vero perché non ho capito che cosa ma lo riprendiamo eccolo ti immagini che tutto un trattato andava alla luce raga poi farò un video non è vero 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 raga non sapete come sto studiando raga 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 aiutatemi raga 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 non sapete quanto lo sto studiando raga raga non sapete quanto lo sto studiando non sapete raga che sono i capelli che hanno li abbiamo visto ce li ha ricci lui appunto quelli non sono ricci quelle sono lisci giusto per farsi bello quella è una farm art se non lo sai poi ma il secolo non è meno che ce l'avevano capire e se per questo conosce e si con le corne è normale è normale che ce le corne veramente c'è 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 le corne c'è le corne c'è la è è c'è ecco ecco mi fa 100% Che bella Entrato Che bella la schermata Sei pronto a sentire la rampa nella di Minecraft? Aspettate Voglio farvelo vedere Anzi vabbè questo video si conclude qua E ora vi farò vedere Minecraft Ciao raga